Finisce con una sconfitta 83-88 l'illusoria domenica del basket pesarese. La Carpegna prosciutto Pesaro gioca con la Germani Brescia 25 minuti fra i migliori della stagione, va pure sopra di 16 punti, ma patisce la rimonta della Leonessa, che si conferma squadra del momento vincendo la sua clamorosa dodicesima partita consecutiva. Amarezza enorme per una VL presa per mano da Jones, Meiris e Delfino, ma che finisce per rimanere con un pugno di mosca in mano per la delusione di Coach Banchi. Perché in realtà una volta acquisito il massimo vantaggio abbiamo dato la sensazione di aver smarrito un po' quel ritmo e quella consistenza che ci aveva permesso di arrivare in vantaggio, con un largo vantaggio fino a quel momento. Abbiamo perso lucidità, abbiamo perso troppi palloni, abbiamo dato modo alla crescente aggressività di Brescia, di prendere il sopravvento, questo ha innescato il loro gioco in transizione, che sappiamo essere letale. Avevamo fatto un buon lavoro fino a quel momento, poi era palese che mancassero, come detto, energie e lucidità. Un vero peccato perché per quanto prodotto per quei primi 25 minuti mi auguravo soprattutto per la squadra e per l'ambiente che ci ha sostenuto un epilogo diverso. Sconfitta con zero attenuanti invece per la Vispesero, che a Carrara affonda con un perentorio 4-1, subisce la terza sconfitta consecutiva e il sorpasso dei Toscani. Una gara infarcita di errori difensivi per la Vis, che incassa due reti da Figoli e Dumbiani la prima metà di primo tempo, a quadro illude col 2-1 in apertura di ripresa, ma i gol di Bramante e Battistella fanno di nuova fette una difesa vissina rivelatasi eccessivamente fragile. In Serie D resta deluso anche il Fano, che non va oltre l'1-1 interno col Montegiorgio, mancando una vittoria che rischia di condannare Granata e play-out. Nel volley brutta sconfitta anche per la Megabox che lotta, ma cede in 3-7 a Monza. Vince invece senza giocare la Pesoro Rugby. Catania presenta casi di positività al Covid-19 e rinuncia alla trasferta marchigiana. Da ragolamento della palla ovale, il forfè costa il 20-0 a tavolino. Infine, domenica si è giocata anche la prima giornata del campionato di football americano. Gli Angels Pesaro hanno debuttato a Ravenna con una sconfitta onorevole 20-17 al cospetto dell'avversario più forte del girone.